Ciao, prima di iniziare la visione di questo video, sappi che per vedere la Mini Cooper S R53 dovrai saltare al minuto 9.30 più o meno. Se fossi un amante delle vetture, della fattispecie della Mini Cooper S R53, in questo episodio troverai pane per i tuoi denti. Ti racconterò un po' quello che ci racconta Youngtimer, ma un po' quello che è successo nel mio caso, nella nostra storia, con l'acquisto di questa fantastica sportiva. Questa è una Iena, è una macchina che costa pochissimo, adesso costa poco ed è un assedio circolare perché pare che nel tempo si valorizzi. Proverai qui a sinistra invece una scheda che ti linkerai in un altro dei miei video dove potrai vedere qualche immagine della ristrutturazione di questa macchina. Vai col video, buona visione. Youngtimer, articolo di luglio-agosto, giornale bimestrale, Renault Crio Williams sulla quale stiamo lavorando. E' un articolo molto interessante su Mini Cooper S che dice ecco perché è il momento perfetto. E' già da più di un anno che è il momento perfetto, a mio parere. Leggiamo insieme un kart con la targa. Vi leggo qualche riga. Non è proprio un oggetto diabolico da pista, però la più muscolosa delle anglo-tedesche della prima ora può rendere il tragitto casa-ufficio divertente quanto una domenica fra i cordoli. Molto bene. E non è più inarrivabile come un tempo, i prezzi dei primi esemplari di 17 anni sono quasi a livello da city car per vecchie signore. Ecco cosa occorre sapere per sceglierla bene. Noi in realtà l'abbiamo già scelta e ce la siamo comprata. L'ho comprata da Mini. Eccola qua. Tra un istante ve la mostreremo. Ancora molto fresca e accattivante, ha un occhio poco attento, una S del 2004 potrebbe quasi apparire appena immatricolata. L'electric blue del foto, insieme al dark grey, rappresentava uno dei due colori più esclusivi per questa versione e risulta tuttora uno dei più diffusi. Per riconoscere la versione più potente della gamma, comunque, basta un'occhiata al frontale con prese d'aria e paraurti specifici o ai due terminali di scarico centrali sulla coda. Vabbè, molto interessante l'articolo che tra l'altro è di una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto pagine. Un paragrafo importante di questo articolo racconta che c'è anche una Mini da 218 cavalli. Un po' italiana ma è rarissima. Nel 2006 Bertone ha sviluppato la Mini Cooper S John Cooper Works GP kit. Per gli amici GP. Alleggerita di 50 kg con differenziale autobloccante, cerchi in lega specifici da 18 e appendici riprese dalle Mini del Challenge Monomarca. Rinunciava ai posti posteriori e climatizzatore e DSC erano disponibili solo a richiesta. Col 1.6 portato a 218 cavalli liquidava lo 0-100 in 6 secondi e mezzo e toccava i 235 km orari. Non male per una macchina così piccina. Scovare uno dei 2000 pezzi prodotti è difficile e i prezzi possono toccare i 35.000 euro. A parte il fatto che hanno rinunciato al sedile posteriore, la cosa più interessante della Mini GP kit probabilmente, a mio parere, è il differenziale autobloccante. La Mini l'abbiamo comprata più di un anno e mezzo fa. Ora Youngtimer ci scrive, ora luglio-agosto, quindi già qualche mese fa, ci scrive che è il momento giusto per comprarla. Noi lo avevamo intuito un pochino di tempo prima. In effetti avevamo voglia di acquistare io e Luca, che tra un attimo vi presento, che fa parte sempre di questo gruppo di amici che ha una grande passione per le vetture. Decidemmo di fare qualche track day insieme. Io, come sapete, guido la Subaru e lui non aveva una macchinetta per andare in pista. E quindi abbiamo pensato a una Mini Cooper S. Navigando su Autoscout trovai questo esemplare proprio di questo colore qui, senza bande bianche, sul cofano. Ma mi colpì molto il colore e i cerchi neri, che sono quelli che sono montati della Momo. Però un celeste più chiaro rispetto a quello che poi abbiamo rifatto. E sull'annuncio di Autoscout c'era scritto 3500 euro. Siamo andati a vedere la vettura e abbiamo conosciuto il proprietario, che saluto. Ciao Daniele. Ragazzo super appassionato come noi, molto educato, molto gentile, che ci ha fatto visionare la vettura. Abbiamo subito notato che era messa male, c'era una bella botta sulla fiancata destra, andava completamente riverniciata. I paraurti anteriori e posteriori erano mangiati, marci, da cambiare. Quindi abbiamo fatto una controproposta, siamo scesi un po' di prezzo. E oltre al fatto che lui abbia accettato la nostra controproposta, ci ha regalato anche un sacco di pezzi di ricambio, come un assetto nuovo regolabile a ghiera, come dischi e pasticche nuove. Tanti pezzi di ricambio che lui aveva comprato, acquistato per un progetto che aveva in mente, poi non ha potuto portarlo avanti e ha deciso di passare tutto a noi. Diciamo che l'esperienza di guida di questa vettura è impressionante, perché è una macchina che è divertentissima, sembra veramente di guidare un grande kart. La trazione anteriore non è la cosa che mi entusiasma maggiormente, però è una macchina che come rapporto qualità-prezzo è imbattibile e soprattutto come rapporto qualità-divertimento è al top. 0-100 in 7,4 secondi, velocità massima di 218 km orari, riprese molto pronte. Il consumo nella prova su strada meritò 3 stelle, 10,6 litri ogni 100 km, rivelati 8 dichiarati. Ma negli anni successivi diversi clienti sottolinearono come l'ingordigia della piccola peste e potesse risultare insaziabile. Probabilmente la verità stava, come sempre, nel mezzo. Se ci si attendono percorrenze da economy run, è meglio puntare altrove. Ovviamente, ragazzi, le vetture sportive consumano. Di che cosa stiamo parlando? Ma se si apprezza il sound peculiare... ...è studiatissimo del volumetrico e si cerca uno strumento che aggredisca le curve come un rasoio, la frequenza delle soste al benzinaio può passare in secondo piano. Anche perché, come si leggeva sempre su quattro ruote, lo sterzo è uno dei comandi più pronti e diretti provati su un'auto di serie. Pure l'handling colpì molto positivamente i collaudatori. Per chi desiderava di più, nel luglio del 2004 arrivò la John Cooper Works, ovvero un'evoluzione che pompò i cavalli fino a 200 grazie a un kit firmato dalla stessa officina, dove 40 anni prima era venuta alla luce la vincitrice di Monte Carlo, ma approvato e garantito dalla severità tedesca di BMW. Testata, rivista con rapporto di compressione più elevato, filtro dell'aria modificato, iniettori maggiorati, interventi della sovraalimentazione e impianto di scarico interamente nuovo. Una ricetta che profumava di meccanica più che stranezze elettroniche che permetteva alla Mini, secondo i dati dichiarati, di scattare da 0-100 in 6,6 secondi e di arrivare a 230 km orari. Il prezzo superava però i 28.000 euro, ben 6.000 più della Cooper S. Varrebbe la pena di assicurarle un posto in garage in ragione della rarità a patto di non imbattersi in una vettura troppo chilometrata o sottoposta a ulteriori modifiche che ne minimerebbero l'affidabilità. Adesso andiamo avanti, a me l'R53 piace perché rispetto all'R56 più piccina ha un centro di gravità un pochino più basso, è più corta, pesa 1050 kg, ha tutte le carte in regola. Questa Mini venne prodotta col cambio meccanico a 6 rapporti, dal 2006 in poi arrivò il cambio automatico che io eviterei veramente perché il cambio di questa macchina è fantastico, invece il cambio con le palettine che arrivo dopo non mi piace assolutamente. E qui c'è il verdetto. Già il nome è una garanzia di successo commerciale anche nell'ambito delle storiche. Divertentissima da guidare, solitamente ben accessoriata e personalizzabile a volontà. Meglio se con aplomb britannico, ma chi l'ha detto? Le quotazioni per gli esemplari in ordine stanno diventando piuttosto sostenute e qui c'è un riquadrino veramente veramente interessante e divertente. Valore nel tempo. Quotazione di riferimento label AB 1800, 2000, 2005, 3000, 3500, 5000, 7000 Crescita rapida dal 2020 al 2025 o meglio dal 2018 al 2025 c'è una bella impennata del valore di questa mini storica si può dire storica quasi ventennale, mancano due anni. Pro e contro diffusa e facilmente reperibile, perfetta anche nell'uso di tutti i giorni, buona affidabilità meccanica. Difetti. Tutto sommato, ragazzi, questa è una vettura che possiamo leggere articoli e parlare per ore e ore, ma tutto si riduce in un unico gesto, quello di sedersi all'interno dell'abitacolo, girare il quadro, accendere il motore, andare a farsi un giro e scoprire che la macchina è veramente una bomba. Andiamo a vedere com'è fatta. 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 Grazie a tutti. 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 Sono interessatissimo a sapere se questo colore vi è piaciuto, penso che l'ho ripetuto talmente tante volte che alla fine vi manderete a quel paese nei commenti. Terza ed ultima domanda. Il valore di questa mini, come dice Young Timer, da 2020 a 2025 dovrebbe subire un incremento. Dovrebbe aumentare il valore di questa macchina. Tu che ne pensi, nel senso, hai visto com'è questa macchina, è stata ristrutturata dentro e fuori, abbiamo fatto un lavorone. I video di tutto il restauro non li ho inseriti dentro perché è passato un anno. Ho perso i file nel telefono, ho perso i file nel telefono, un'odissea non vi sto a raccontare, per cui il video poi sarebbe stato troppo lungo. Ve la faccio vedere così com'è, è perfetta dentro e fuori. Il motore, che non l'ho detto nel video, è stato sostituito dal vecchio proprietario perché ha fuso. Il nuovo motore porta 80.000 km ed è in ottime condizioni. Veramente sta molto bene. Il cambio è perfetto, sono stati sostituiti i braccetti, i dischi, le pasticche, il supporto del filtro dell'olio, il radiatore. C'è un terminale di scarico magnifico, insomma la macchina eroga anche qualche cavallino in più forse, si può dire, ma dell'originale. Va molto forte, è una bella iena. Io vorrei sapere da te se dovessimo domani decidere di vendere questa macchina, quanto vale? Mi fai sapere qui sotto nei commenti? Ti ringrazio moltissimo per la visione e se sei nuovo in questo canale considera l'ipotesi di iscriverti. Clicca la campanellina per rimanere sempre aggiornato, ogni volta che caricherò un video ti arriverà una bella notifica. Aiutami a far crescere questo canale condividendo i miei video e grazie tantissimo per la visione. Ci vediamo alla prossima, ciao!